Decimo turno del campionato di prima categoria, allo sciria di Stornarella si sfidano in completo bianco-azzurro la formazione di casa, Stornarella a calcio, il mister Pino De Martino, reduce da 5 vittorie consecutive e gli ospiti del football club Manfredonia che cercano punti con la direzione di gara affidata al signor Michele Bonavita della sezione di Foggia. Andiamo con le immagini di Massimo Meccola alla sintesi della gara che inizia con il minuto di raccoglimento su tutti i campi quest'oggi e con il fischio di inizio della gara con lo Stornarella sul punto di battuta, si rendono pericolosi subito i padroni di casa con questo calcio d'angolo, il colpo di testa e il pallone alto sulla traversa, poi ancora gli ospiti che provano con la conclusione da parte di De Filippo tra le braccia di Lodia, Lodia è imbattuto da 4 gare consecutive, poi è qui Yungo andrà ad andare alla conclusione, si fa trovare pronto anche Valente, il lancio in avanti a cercare ancora Yungo che mette giù il pallone, prova ad andare alla conclusione e poi il pallone al lato. Ancora ospiti che si rendono pericolosi con questo pallone recuperato a centro campo, la conclusione ancora di De Filippo tra le braccia di Lodia. Ancora Stornarella con Yungo, protagonista va via il numero 11, lo scambio con Zingarelli, ancora Yungo la conclusione, pallone alto di poco, calcio di posizione con la battuta da parte di Simone, pallone al lato, ancora ospiti con De Filippo protagonista, con la conclusione parata da Lodia, qui la conclusione ancora di De Filippo alta questa volta, finisce il primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, partita equilibrata. Nella ripresa poi lo Stornarella rendersi pericoso con la conclusione intercettata da Valente, e il pallone ancora ribattuto da Garbetta, il pallone al lato, poi ancora ospiti con questo tiro che finisce di poco al lato, con ancora Stornarella con il pallone lanciato in avanti, la conclusione da parte di Magaldi, da poco entrato in campo, pallone alto sulla traversa, sempre ospiti pericolosi, con il colpo di testa che finisce al lato da parte di Spagnuolo, calcio di posizione, pallone in mezzo, la battuta di Compierchio, poi Abile nella ribattuta, a mettere dentro Marco Zingarelli, a 10 minuti dal termine si porta in vantaggio lo Stornarella, bella la realizzazione da parte della formazione bianco-azzurra che si porta in vantaggio 1-0, poi colpo di testa, pallone alto sulla traversa, ancora la ripartenza da parte di Magaldi che prova ad andare alla conclusione, pallone intercettato da Valente, finisce la partita con la vittoria dello Stornarella, 19 punti in classifica, 6 vittorie consecutive, zona play-off, davvero una grande stagione finale per lo Stornarella calcio, e noi a fine partita abbiamo ascoltato i protagonisti di questa cavalcata. Marco Zingarelli, gol che vale 3 punti, la sesta vittoria consecutiva, Stornarella che non si ferma più. Speriamo che continui sempre così, sono felicissimo di aver segnato, abbiamo fatto il primo tempo una bella partita, secondo gli innesti che ci hanno dato una grande mano ed è arrivato il gol, per fortuna abbiamo portato a casa altri 3 punti, sperando di continuare con questa scia positiva. E cos'è cambiato dalla vittoria di Molfetta ad oggi? Secondo me c'è più gruppo, siamo creando un bel gruppo nello spogliatoio e questo è il primo passo per prendere un bel campionato. Domenico Cassotta, Stornarella che continua a vincere, con il gol degli Stornarella, in questo caso Marco Zingarelli oggi che ha segnato una rete importantissima, c'è festa in paese, insomma c'è gente che ormai vi segue con entusiasmo, perché se vittoria consecutiva vogliono dire tanto. Sono comunque un bel filotto di vittoria senza dubbio, però invitiamo tutti a mantenere i piedi ben saldi a terra, perché ricordiamoci che l'obiettivo nostro è la salvezza, quindi oggi si sono fatti altri 3 punti per quell'obiettivo, c'è entusiasmo però come non dovevamo prima buttarci a terra per le sconfitte, adesso non dobbiamo fare voli con la testa, perché ci sono squadre molto più attrezzate di noi, la sonate, quindi per la nostra piccola realtà già questi tipi di risultati vanno abbastanza bene, quindi speriamo di continuare però sempre con i piedi ben saldi a terra. Il meresti oggi solamente per la salvezza? Ripeto, quello è l'obiettivo principale, l'abbiamo sempre detto dall'inizio, pure il mister, se verrà qualcos'altro lo accettiamo ben volentieri, ma quello è l'obiettivo. La squadra di Ciccone, sei vittorie consecutive, tanto entusiasmo e soprattutto vedere poi i giocatori di Stornarellesi che portano avanti la carrozza in questa squadra sicuramente è una bella soddisfazione. E' centrato perfettamente l'obiettivo Luca, quello che dicevamo sempre prefissi, e la squadra dopo un inizio stentato è dovuto pure al fatto che abbiamo incontrato le due corazze del campionato, adesso sta raccogliendo meritatamente i lavori di mister De Martino e di conseguenza del settore giovanile, composto da me e mio fratello De Gregorio, mister Cassotta, che sta lavorando bene e quindi le varie sordi ogni partita di Zaccaria, Trecca, Persichella, non ci fanno altro che inorgoglire. Tante notizie positive per questo Stornarelle, in tre anni sta costruendo davvero tanto, adesso stanno arrivando notizie positive anche per quanto riguarda la struttura, finalmente qualcosa sembra muoversi. Sì, abbiamo ricevuto questa bella notizia dal Sindaco, credo che sia la ciliegina sulla torta, adesso è la struttura su cui bisogna lavorare, il Sindaco ci ha promesso degli interventi che saranno effettuati a breve nel corso di questo campionato e quindi credo che anche con una struttura adeguata non può far altro che crescere il movimento dello Stornarelle a Calcio. Sarà possibile quindi giocare nonostante i lavori? Questo non lo so perché i lavori richiederanno un po' di tempo per il famoso prestito che il Comune avrà, quindi non so se faremo in tempo a giocare in questo campionato, però già la promessa avuta dal Sindaco che i lavori si faranno, io credo che se non è quest'anno, dal prossimo anno a Stornarelle a Calcio avrà una struttura degna di questo nome, di un campionato di prima categoria e di un settore giovanile che cerca di puntare sempre di più sui ragazzi del posto. Si sognano i play-off, può essere un obiettivo? Eh, sognare i play-off può essere anche pericoloso perché poi si sarebbe da fare di poter fare il salto in categoria superiore, per i play-off come Benzai e Luca io credo che il primo posto sarà a pannaggio tra Slai e Manfredonia, quindi poi ci sarà il secondo posto che credo andrà a una delle due squadre, poi vedo bene Borgo Rosso, il nostro compito è di fare un buon campionato, valorizzare al massimo i ragazzi del posto, addirittura noi stanno giocando dei 2002 come Cipollino e Potenza che oggi hanno in banchina ragazzi che fanno parte degli allievi e sarà questa la nostra strada, quindi un buon campionato e valorizzazione dei giovani del posto, questo è l'obiettivo fondamentale del nostro gruppo.